Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scroppo a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e gli preparo colazione con il buono di soia e troviamo le cose per terra e ci facciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora a qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora a qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SNS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo. A un'ora a qualsiasi facciamo l'amore e c'è e ci stupiamo che sia passato il tempo ma pazienza lui passa. Noi per mano, noi, tu, tu come puoi pensare che ci manca qualcosa.